Per quali ragioni la vita degli animali è incompatibile con il loro utilizzo nelle attività circensi? Quali sono le opportunità da cogliere per fare un passo avanti contro lo sfruttamento degli animali? Perché in Italia è urgente una riforma del settore dello spettacolo che prevede la dismissione degli animali dai circhi? Sono stati questi gli interrogativi su cui si è riflettuto durante il convegno Il Circo Senza Animali, Il Circo del Futuro, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte attraverso l'Ufficio del Garante dei Diritti degli Animali della Regione Piemonte. Stanno avanzando nel mondo posizioni sempre più diffuse per l'abolizione degli esercizi degli animali, soprattutto quelli esotici, nei circhi. Ci rendiamo conto che è un percorso di transizione e noi vogliamo parlare di queste cose perché il Piemonte è una regione che è molto avanti su questo punto, in quanto ad esempio noi non abbiamo circhi registrati in Piemonte che utilizzano gli animali. Il consigliere segretario Domenico Walter Ottria, nel portare il saluto dell'Assemblea, ha auspicato che la Regione Piemonte promuova concretamente tutte le attività connesse all'ordine del giorno approvato un anno fa per promuovere il circo contemporaneo in tutte le sue forme, valorizzando il ruolo artistico e riconoscendolo quale valore per lo sviluppo economico e occupazionale dei lavoratori del settore. Fra i relatori, moderati da Fabrizio Gavosto, direttore artistico del Festival Mirabilia, Valeria Campo, presidente della Commissione Ministeriale Settore Circo, Luisa Cuttini, direttore artistico circuito Claps e Alessandro Serena, docente di storia dello spettacolo circense all'Università degli Studi di Milano. Credo che all'alba del terzo millennio l'uomo stia cercando di ridisegnare il proprio posto nell'universo e nel fare questo sempre più spesso pone al proprio fianco anche l'animale. Di sicuro il circo classico con gli animali deve riflettere molto su questo ruolo e mettere al primo piano il benessere degli animali e la cura degli animali quando li ospita al proprio interno. Secondo i dati Eurispes, il 70% degli italiani si dichiara contrario all'utilizzo degli animali negli spettacoli. Sono inoltre già 17 i paesi europei con leggi che vietano o limitano fortemente l'uso di animali negli spettacoli.